Ciao Martina, come stai? Ciao, tutto bene, grazie. Tu? Tutto a posto. Ciao a tutti, siamo alla nuova puntata del podcast di Soccerment. Sono qua insieme a Martina Piemonte, calciatrice del Milan Femminile e della Nazionale Italiana di Calcio. Di cosa parleremo oggi con Martina? Di lei, delle sue prestazioni nell'ultimo periodo, che sta giocando benissimo. E parleremo anche di dati. Siamo al podcast di Soccerment e quindi tratteremo di dati e dei dati che riusciamo ad avere di Martina grazie a Opta, ma soprattutto grazie anche a Exceed, il nostro palastinco intelligente. Infatti per dare un attimo di contesto, Martina è la key player di Soccerment, è la prima calciatrice femminile ad utilizzare Smart Wearable in campo e grazie al nostro Smart Wearable Exceed, palastinco intelligente, abbiamo modo di tracciare tutte le sue performance atletiche e tecniche e grazie a questo fornirle al termine della partita dei match report. Però durante questa puntata andremo più in profondità. Detto questo, io ho già parlato abbastanza e inizierei a parlare un po' di te, Martina, e facciamoti qualche domanda. Allora, l'ultimo periodo stai giocando benissimo, stai facendo delle prestazioni fantastiche, stai insegnando tanto. Descrivimi questo tuo ultimo periodo in tre parole. Allora, la prima parola che sceglierei è perseveranza, perché credo che perseverare sia importante nel momento in cui si ha un obiettivo. Perseverare sempre nel momento in cui hai da affrontare ogni settimana una partita, perseverare giorno dopo giorno, in ogni allenamento, e dare tutto quello che abbiamo per migliorarci ogni giorno e arrivare alla partita pronta. Un'altra è il coraggio, perché il coraggio fino alla fine del campionato ci serve per affrontare le partite, perché alla fine del campionato è fino all'ultima partita, nonostante uno arriva terzo, quarto, quinto, credo che il coraggio è di giocare ogni partita come se fosse l'ultima. Prima volta che sei entrato nello spogliatoio della Nazionale, com'è stata? Quanto coraggio ti ha servito? Beh, prima volta in Nazionale Maggiore, mi ricordo ancora che nella chiamata ero con San Zaccaria, avevo 16-17 anni dopo il nostro mondiale in Costa Rica, e gli ho detto al mister Leandri, c'era in San Zaccaria, ho detto, mister, ma sei sicuro? Non è che sei sbagliato? Cioè, ma sei proprio io? Quindi era veramente già solo la chiamata un qualcosa di incredibile. Poi negli spogliatoi, soprattutto quando ero arrivata io, c'era ancora Patrizia Panico, Domenichetti, tutte giocatrici veramente importanti, quindi avevo un'ansia incredibile. E la prima partita, l'esordio a Praga contro la Repubblica Ceca, è stato emozionantissimo, perché sono entrato a posto di Panico, e quindi per me è stato davvero importante. È difficile ricordare i momenti, perché non ci credevo, quindi è un'emozione veramente indescrivibile. E oggi invece, quando torni in Nazionale, l'emozione sicuramente è sempre tanta, ma in che modo affronti queste partite, lo spogliatoio? Beh, già il fatto di essere nazionale per me è un'emozione incredibile, anche perché sono una persona che non dà niente mai per scontato. Mi piace sempre lottare per avere un qualcosa, già essere lì è emozionantissimo. Sicuramente adesso ho un'altra età, 25 anni, tanta esperienza, un bagaglio importante, e sicuramente sono lì per dare tutto il mio aiuto, tutto il mio supporto in campo, fuori, dentro, sempre. Quindi è sicuramente un altro tipo di approccio rispetto a quando è più piccola, e devo dire che è nazionale, è sempre nazionale. Ma guarda, noi abbiamo chiesto su Instagram alla nostra community di farti le domande, e ce n'è una di Maurizio, che cade a pennello, con quello che stai dicendo adesso, che è quanto ti senti leader tu in campo, sia come persona, ma anche come calciatrice, se ti senti più un leader motivazionale o un leader tecnico in campo? Io credo di essere più un leader tecnico, perché mi piace dare tutto in campo, più che alle parole, perché le parole alla fine dipendono da giocatrice e da giocatrice. Magari possono aiutare, ma possono non aiutare, perché magari star lì sempre a urlare, a dire comunque quella parola in più, molte volte non va benissimo. Quindi credo che sia più importante rendere in campo. Cioè, della serie io faccio magari quella corsa in più per la mia compagna, metto la gamba, la metto io. Quindi, per me, mi vedo più come un leader in campo. Beh, poi diciamo che segnare aiuta. Beh, segnare, poi soprattutto non è un attaccante. È tutto. Sì. Restiamo in tema attaccanti e ti chiedo, hai a casa una maglietta tua di una tua partita particolare o magari di qualche calciatore che per te è un idolo o un'ispirazione alla quale sei tanto affezionata? Allora, il mio idolo è Ibra, credo che lo sappiano ormai anche i muri, perché eventualmente è sempre stato il mio idolo fin da piccola. La maglia in cui sono affezionata sicuramente è quella nazionale, come dicevo prima, perché è il sogno di qualsiasi giocatrice giocare in nazionale. Soprattutto la più recente è quella dell'europeo in Inghilterra, il gol contro la Francia, perché è stato uno del mio primo gol in un europeo con la nazionale maggiore. Bello. Guarda, è stata fantastica. Rispondo anche a domande su Ibra, perché hai anticipato la domanda di Paola, una tua follower che chiedeva se ci fosse un calciatore particolare a cui ti ispirassi. Va bene. Adesso, Martino, io passerei un attimo alla parte un po' più di dati. Comunque, come dicevo, siamo soccermente e come sai bene, noi siamo una società specializzata in football data intelligence. Quindi noi prendiamo i dati della nostra piattaforma di analytics e i dati che abbiamo tramite Exceed e forniamo ad altri professionisti, in questo caso o a te, dei report sulle tue partite. Tu sei molto importante per noi in questo momento anche perché ci aiuti tramite i tuoi feedback e i tuoi consigli a migliorare costantemente. Quindi penso sia un bellissimo rapporto quello che si è creato in questo momento fra di noi. Quindi io passerei ai dati. Infatti adesso li andiamo a prendere. Allora, un dato molto interessante che mi ha girato il team di Data Science di Soccerment è il fatto che a livello di duelli aerei sei la migliore in Serie A per duelli vinti e anche per duelli riusciti. Quanto hai imparato a sfruttare la tua fisicità in campo? Sicuramente mi ha aiutato tanto in realtà la prima volta che sono andato a Siviglia perché prima io usavo molto male il mio corpo. La Serie A aveva questa struttura importante ma non usavo bene il corpo, non mi mettevo bene col corpo quando proteggevo palla. Secondo me negli ultimi tre anni, soprattutto dalla mia esperienza a Siviglia sono cresciuta tanto. Nel senso anche perché lì essendo anche una delle più grosse fisicamente ho imparato a proteggere meglio la palla e negli ultimi anni sono cresciuta su questo punto di vista qua ma anche perché fondamentalmente è uno dei miei punti forti. Quindi ho imparato a lavorare di più su questo punto di vista qua. L'altro dato che volevo condividere con te è un dato che parla dei tocchi nel terzo centrale e in questa statistica sei il migliore attaccante appunto per tocchi nel terzo centrale quindi nei tocchi nella parte centrale del campo. Questo cosa significa? Per chi ci ascolta che Martina è una calciatrice che lavora tanto per la squadra. Questa tua caratteristica di scendere, proteggere palla, far girare è una istintiva tua oppure è più una necessità della squadra in questo momento? Sicuramente da attaccante a me piace stare in mezzo all'aria e fare gol però giustamente io seguo quello che mi dice il mio mister che vuole che io scendo di più aiutare la squadra dove tengo palla, scarico e mi ributto in aria quindi sicuramente è un qualcosa che mi richiede il mister per il tipo di squadra che abbiamo ma se devo scegliere come attaccante preferisco stare di più lì in aria a sportellate per buttare la palla in rete. Infatti è molto interessante vedere come sei la migliore calciatrice in Serie A per questo fondamentale quindi per il fatto di aiutare la squadra a far girare la palla e comunque resti in top 4 per XG quindi per gol attesi. Per quanto io posso aiutare la squadra che è la cosa principale perché il gruppo e giocare per la squadra è una cosa fondamentale nel calcio e il mio lavoro è fare gol e quindi la cosa più importante è farmi trovare lì davanti oltre al lavoro di squadra. Ah sì, poi ultimamente hai fatto anche dei gol bellissimi. Grazie. Ero a vedere il derby bellissimo quel gol di sinistro giusto da fuori fantastico veramente veramente bellissimo poi sento sempre in telecronica che alcuni dicono sempre Martina si è girata come Giroud e comunque me lo ricordi tanto sia Ibra che Giroud come tipo di calciatore è molto interessante è molto bello. Martina allora io parlerei un po' di Xeed perché abbiamo introdotto prima che per noi in questo momento sei la prima calciatrice che utilizza Xeed in campo e mi piacerebbe condividere con i nostri ascoltatori con chi sta guardando il video in questo momento la tua esperienza con con questo tipo di device che è innovativo e rivoluziona il campo scusate rivoluziona il gioco e a mio avviso è importante per la crescita sia di atleti professionisti come te ma anche di ragazzi molto più giovani noi ci siamo sentiti per la prima volta se non sbaglio a ottobre cos'è che ti ha attirato maggiormente di Xeed ma non del prodotto in sé del concetto di poter analizzare le proprie prestazioni? Sicuramente Xeed è un prodotto che ti fa capire tutto quello che fai in campo a me piace tanto migliorarmi credo che la cosa più importante per un atleta è migliorarsi giorno dopo giorno e Xeed ti dà tutti questi dati eventualmente sì per carità uno lo vede in campo magari dove ha i suoi limiti ma avendo delle percentuali di dati così importanti è fondamentale poter lavorare in maniera più precisa ok quindi per me Xeed adesso come adesso è fondamentale nel mio lavoro perché eventualmente capisco dove devo migliorare sì esatto perché comunque sempre per dare maggiori informazioni parliamo di avere la possibilità di tracciare tutti i dati atletici quindi dove corri quanto corri la velocità eccetera ma anche una parte più tecnica quindi quanti passaggi tiri cross la potenza del tiro di queste statistiche ce n'è una in particolare che guardi sia per migliorare ma anche magari per il tuo ruolo beh in realtà tutte le percentuali tutte le cose che Xeed mi fornisce sono tutte veramente importanti perché mentalmente cioè io voglio essere il più completa possibile non una cosa sì una cosa no quindi tutti i dati sono veramente importanti sicuramente i miei movimenti in campo se non un attaccante perché cioè devo far gol quindi voglio vedere come mi muovi in campo gli sprint gli sprint i tocchi sono tutte cose fondamentali non escluderei neanche una a dire la verità perché sono tutti veramente importanti io chiuderei il tema dei dei parastinchi intelligenti o comunque di smart web andando più su una parte anche emotiva e psicologica nella vita di un atleta io penso che ovviamente lavorando per soccer ma penso che il dato sia fondamentale noi come mission abbiamo quella di voler accelerare l'utilizzo dei dati nel calcio perché siamo sicuri che un approccio più oggettivo allo sport possa aiutare sia atleti come te a migliorarsi costantemente ma soprattutto a rendere lo sport più meritocratico inclusivo soprattutto per i ragazzi nella fase di crescita perché sappiamo e poi l'avrai vissuto sicuramente tu ma l'abbiamo vissuto tutti da piccoli con quelle pressioni che si possono avere dal papà dall'allenatore oppure parliamo del non so mi ricordo sempre in macchina dopo la partita con mio papà che mi diceva Nicolò hai giocato male hai corso poco ma quando in realtà avessi avuto qualcosa per dir papà qualche corso comunque ho giocato bene sarebbe stato molto più divertente e diverso il confronto ma soprattutto la crescita dei ragazzi differente c'è magari un ragazzo che fa lo sviluppo un po' prima lo sviluppo un po' dopo e tu ho visto anche un'intervista che parlavi anche che da giovane hai giocato anche con i ragazzi quanto è importante non tanto il prodotto per la stinco in sé ma poter vivere se stessi e le proprie prestazioni in un modo oggettivo secondo me è fondamentale veramente importante perché come dicevo io sono cresciuto con i ragazzi perché a livello di femminile non c'erano ancora le strutture e ancora di più su questo punto di vista qua se io avessi potuto avere il parastinco fin da piccola sicuramente a quest'ora sarei tanto più avanti molto importante secondo me se i ragazzi fin da giorni fin da adesso che sono le prime armi tra virgolette diciamo stanno ancora affrontando stanno preparando per arrivare in alto secondo me è bello molto bello soprattutto fondamentale perché se tu inizi a lavorare già da adesso sicuramente il percorso si fa più facile migliori sempre di più per arrivare dove vuoi e se inizi già da subito arrivi tra virgolette più facilmente dovevi arrivare sono d'accordo e poi comunque è sempre un modo di imparare a stare con se stessi quindi non tutti abbiamo le possibilità il talento per poter arrivare a giocare in serie come te però penso che poi te lo porti anche fuori dal campo questo modo di crescere costantemente sviluppare una mentalità di questo tipo che poi a te serve in campo perché continui a migliorare e l'abbiamo visto tutti quanto sei migliorata quest'anno e ragazzi magari che non riescono ad arrivare in serie A eccetera magari continuano a giocare tra di loro con i loro amici ma comunque se lo portano all'università se lo portano più avanti sono dei tanti che comunque solo un parastinco del genere può darti perché magari il GPS adesso abbiamo tutti il GPS le casacchine il cardio ma sono così specifici effettivamente giochi a calcio di vedere quello che fai a livello di campo e XIT ti dà delle cose veramente fantastiche anche io sono rimasta sorpresa perché effettivamente solo così riesci a capire dove magari manchi dove hai più carenza sinistro destro e secondo me è veramente un qualcosa di straordinario molto bene sono contento che ti stai trovando bene con il nostro con il nostro device adesso c'è la parte secondo me più divertente dell'intervista per il bene di tutti posso uscire e fare posto alla mia collega Susanna che porterà le domande che sono fatte la nostra community a te tantissime sia in inglese che in italiano abbiamo anche delle domande in spagnolo della tua esperienza fatta in Spagna al Siviglia al Betis quindi lascio la parola a Susanna grazie grazie a te Mattia di essere qui ciao Martina ciao mi ha dato volassi Nicolò partiamo con le domande della community che ci sono arrivati sui canali social e io se sei pronta prontissima quando vuoi partirei sulle domande diciamo tema spagnolo tu hai giocato in Spagna a Sevilla e al Betis però ti chiedo Dario ci hai chiesto quando hai giocato in Spagna qual è il tuo momento più memorabile quello che ti ricordi di più magari andiamo sulla prima esperienza al Sevilla allora al Sevilla è stata la mia prima esperienza avevo 17 18 anni già quello per me andare fuori casa che ero veramente matta ero una ragazzina piccola molto immatura e secondo me già è stato un passo per me importante nella mia vita che mi ha fatto crescere tanto e arrivare lì e stare da sola lontana da tutti e tutti è stato veramente difficile ma allo stesso tempo mi ha fatto crescere tanto e mi ricordo ancora i primi mesi dove piangevo ogni giorno la mattina è stato qualcosa di è stato difficile ma allo stesso tempo in realtà dopo un mese mi ha mi ha aperto gli occhi a una realtà veramente bella dove ancora adesso secondo me dico sempre che Siviglia è parte del mio cuore perché è stata la mia crescita certo infatti sei bravissima ad anticipare le domande della community perché appunto quella successiva sarebbe stata appunto se hai vissuto delle sfide o gli istacoli particolari durante la permanenza in Spagna la prima esperienza lontano da casa però appunto direi che come dicevi ti ha aiutato a crescere sì ma anche anche in campo sicuramente era un gioco molto più veloce io inizialmente non mi devo la palla e poi ritrovarmi a fare gol ogni partita doppietta eccetera per me è stato anche un ostacolo che ho superato da che il primo allenamento non mi devo la palla poi a fare gol ogni partita è stato un qualcosa di veramente bello ed è un bagaglio che poi come dicevi anche prima Nicolo ti sei portata in Italia sì assolutamente e parliamo un po' in spagnolo Martino visto che parli in spagnolo sui canali social parli in spagnolo dopo la tua esperienza in Spagna abbiamo un messaggio da Paolo tienes algún mensaje para tus seguidores in Sevilla? bueno claro lo sevillano ha sido lo mejor así que o se c'ho mucho de menos ci aiuti con la traduzione? traduzione sono sempre sono stati uno dei i migliori i migliori e che mi mancano tanto vediamo tanti i tuoi follower vedono sui social che hai postato tante foto con i cani io ho un cagnolino si chiama Totò perché non ci dici quali sono i tuoi cagnolini e che nome hanno? allora io ne ho sei sei di cui cinque barboncini e un bracco allora si chiamano Dodi Mia Bobo Nora e Cocò mentre il bracco Asia Alfie chiede quale dei tuoi tagli è il tuo preferito? allora ne ho uno in particolare che è questo Cosa c'è Rastosiembras che è uno praticamente me lo disse mio cognato che adesso non c'è più che vuol dire raccoglierai i tuoi frutti e 0108 che è praticamente lui quando è venuto a mancare con Teco perché lo chiamavano Teco grazie Martino che do il bacio prima di entrare in campo per questa entrata personale campo esulti da attaccante spesso ti prepari prima di scendere in campo o la vivi sul momento? allora io sono una molto così come mi vedi sono una molto istintiva quindi dipende dalla partita da quello che sta succedendo quindi vado molto distinto quindi la maggior parte delle mie foto sono così perché sono molto istintiva se in realtà qualche volta faccio delle esultanze particolari perché sono dovute da cose che mi sono successe amici perché ho anche uno dei miei più cari amici è un giocatore quindi in realtà ci parliamo e dico qualche se faccio qualche cosa è per questo motivo qua ecco Maria Antonietta si chiede se ascolti un genere particolare prima della partita per caricarti se hai una canzone preferita? di canzone preferite non ce l'ho perché in realtà vado molto a momenti a periodi io ascolto molto musica latina però poi passo dal rock insomma dipende dai momenti perché dalle canzoni che sono appena uscite Rosalia mi piace molto ecco dipende in particolare non ce n'ho una però in realtà sono sempre o latine o rock in realtà devo dirlo perché sono terrona di origine qualche musica napoletana ne è tanto neomelodico esatto dipende grazie Martina per aver risposto alle nostre domande grazie a tutti voi per averci seguito in questo podcast Martina ti continueremo a seguire in televisione ma anche attraverso i dati raccolti con i parastinchi e XSID grazie 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 a te ciao